Avete contestato la struttura voluta da Conte per gestire il Recovery Fund, perché? Perché è una struttura che pensa a moltiplicare le poltrone, ma non va a dare una mano ai disoccupati, ai negozi chiusi, alle persone che soffrono. Quindi non lo voterete il decreto? Se le cose rimangono come sono, noi voteremo contro. Per noi un ideale vale più di una poltrona. Ma c'è il rischio di una rottura con Conte? Spero proprio di no, però temo di sì, perché insistere su una misura che sostituisce il governo con una task force, che sostituisce la seduta del Parlamento con una diretta Facebook e che addirittura pretende di sostituire i servizi segreti con una fondazione privata voluta dal Premier, significa una follia. Noi abbiamo mandato a casa Salvini per non dargli i pieni poteri, ma non è che i pieni poteri li diamo a Conte. Il vostro no alla cabina di regia è il segnale di un'insoddisfazione più profonda verso il governo? Molte cose non funzionano, però vogliamo dare una mano al governo, quindi siamo pronti a fare la nostra parte. Però non ci siederemo mai in un tavolo nel quale la torta da 200 miliardi è pensata per i consulenti romani e non per i cittadini italiani. Non avete neppure firmato la risoluzione di maggioranza sul MES, ma vuole dimostrare che Italia Viva è decisiva al Senato? No, voglio che ci siano i soldi del MES per la sanità, più soldi alla sanità anche col MES e meno soldi ai consulenti e agli amici degli amici. Grazie. Grazie. Grazie.